Gli studenti napoletani ottengono dal rettore della Federico II che in senato accademico venga discussa la proposta di interrompere gli accordi con le università israeliane e ottengono che lui valuti le sue dimissioni da Met Orr, la fondazione della Leonardo. Si è concluso così l'incontro tra il rettore dell'università Federico II di Napoli, Matteo Lorito, e gli attivisti della rete studentesca per la Palestina, che lunedì scorso hanno occupato il rettorato dell'Ateneo Federiciano in segno di protesta contro la partecipazione al bando di collaborazione con Israele. Questa mattina gli studenti hanno liberato il rettorato, gesto considerato da Lorito come prerequisito necessario per l'avvio di un dialogo con gli studenti. È l'organizzazione di un incontro pubblico che si è poi svolto dalle 11.30 nell'aula con forti dell'edificio Pecoraro Albani in via Porta di Massa, una delle sedi della Federico II. Un incontro molto partecipato, la sala infatti era a stracolma ad aprire il dibattito, è stata Giulia, studentessa palestinese di seconda generazione. La nostra voce unita ha detto stare agendo contro un muro di silenzio assordante che le parti istituzionali stanno costruendo. Noi non siamo a detto Lorito in silenzio, ma in un silenzio operoso, ci occupiamo di interazione tra popoli diversi. E oggi vi ringrazio di questa assemblea straordinaria e vi dico che siamo pronti a portare il frutto del dibattito negli organi dell'Ateneo. Grazie mille.